Salve a tutti, il titolo di questa mia presentazione è la svolta concettuale in fisica quantistica, da intendersi qui come la possibilità di una svolta nel nostro modo di comprendere o di cominciare realmente a comprendere la meccanica quantistica, che negli anni ha mantenuto la reputazione di essere la teoria più oscura, la teoria meno intelligibile. Il motivo per cui questa svolta e di natura concettuale, beh, questo è quello che cercherò di spiegarvi durante questa presentazione, che tra l'altro è la traduzione in italiano di una conferenza che ho avuto il piacere di tenere abbastanza di recente assieme a Dieterich Arts, nell'ambito di un workshop il cui tema centrale era quello dell'ontologia e metafisica quantistica. Tra l'altro esiste anche una versione in francese, oltre a quella in inglese, di questo video e vi metterò tutti i link nella descrizione. Bene, ma prima di cominciare vorrei anche segnalare che è stato appena pubblicato il numero 24 della rivista d'accesso aperto Autoricerca e che questo ventiquattresimo volume è interamente dedicato alla fisica e contiene tre articoli che affrontano aspetti fondazionali e fondamentali non solo della fisica quantistica ma anche della relatività e tutti e tre questi articoli, uno in particolare bisogna dire, toccano in modo più o meno diretto l'interpretazione concettualistica della teoria quantistica di cui andrò adesso a parlarvi. Questa interpretazione è stata inizialmente proposta da Dieterich Arts nel 2009 ed è attualmente indagata da alcuni membri del cosiddetto gruppo di Bruxelles presso il centro Leo Apostel o CLEA di cui ho il piacere e l'onore di fare parte. Buon ascolto. Iniziamo con alcune citazioni. Feynman ad esempio è famoso per aver detto che nessuno comprende la meccanica quantistica. Bohr invece ha affermato che se non siamo rimasti scioccati dalla meccanica quantistica allora non possiamo averla capita e più recentemente Carroll ha osservato che sorprendentemente la maggior parte dei fisici sembra non avere problemi con il fatto di non capire la loro teoria più importante, più fondamentale. Ora potremmo sostenere che se andiamo abbastanza in profondità a questo punto ogni teoria fisica a un certo momento presenta una sfida in termini di comprensione dei suoi aspetti più fondamentali. Si pensi al famoso non invento ipotesi di Newton in relazione al mistero della gravità della sua azione fantasma a distanza che Einstein ha risolto eliminando la forza gravitazionale in quanto tale ma poi scherzo del destino si è trovato si è trovato confrontato con un'altra azione fantasma a distanza apparentemente apparentemente inspiegabile quella associata al famoso fenomeno dell'entanglement quantistico. Detto questo quando parliamo di comprensione di una teoria dobbiamo distinguere almeno due aspetti. Il primo è la sua comprensione tecnica e tutti noi sappiamo più o meno cosa significa questo quindi non ho bisogno di spiegarlo. Il secondo aspetto è invece quello dell'interpretazione della teoria. Secondo Tim Maudlin l'interpretazione è ciò che trasforma un formalismo in una teoria fisica a tutti gli effetti. Ma che cos'è un'interpretazione? Beh in sostanza si tratta della specificazione di un'ontologia e di una metafisica. Christian de Ronda tra l'altro recentemente sottolineato che una teoria senza un'ontologia e una metafisica, quella che lui chiama la componente concettuale della teoria, ebbene non può nemmeno essere considerata una vera teoria fisica. Molto brevemente un'ontologia che cos'è? È la specifica dell'inventario delle entità che esistono là fuori, mentre una metafisica è una specifica di ciò che sono le entità là fuori, cioè della loro natura. E poi possiamo anche menzionare, è importante farlo, l'epistemologia che è la specifica di come sappiamo che qualcosa esiste e ha una determinata natura. Ora ci sono alcune nozioni che sono in qualche modo inevitabili se vogliamo descrivere la realtà da un punto di vista scientifico. Senza entrare nei dettagli mi limiterò qui a ricordarle. C'è la nozione di entità che è l'aspetto, quell'aspetto della realtà che vogliamo studiare, a volte lo si chiama semplicemente sistema, a cui possiamo attribuire delle proprietà e degli stati. C'è poi la nozione di stato per l'appunto, che è ciò che un'entità è in un dato momento, compreso ciò che potrebbe diventare in termini di disponibilità in un momento successivo. Poi c'è la nozione di proprietà, che è semplicemente uno stato predittivo, di solito associato a una domanda sperimentale. Infine, la nozione di contesto, che descrive la realtà esterna a un'entità responsabile di produrre i suoi cambiamenti di stato. Con questo bagaglio minimo di nozioni, indubbiamente compatibile sia con la visione dell'operazionalismo che del realismo, esaminiamo ora alcune delle caratteristiche fondamentali della teoria quantistica e cerchiamo anche di spiegare brevemente perché queste restino a tutt'oggi alquanto misteriose. Abbiamo la sovrapposizione quantistica, la misura quantistica, l'entanglement quantistico o intricazione quantistica, se la diciamo alla francese, l'indeterminazione quantistica e l'indiscernibilità quantistica. Cominciamo con la sovrapposizione quantistica. È noto che uno stato di sovrapposizione descrive un modo di essere potenziale. Ora, la nozione di potenzialità era già stata introdotta da Aristotele per concettualizzare i processi di cambiamento, quindi perché questo sarebbe un problema? Cioè, dov'è il mistero? Ebbene, il mistero della sovrapposizione quantistica sta nel fatto che questi modi di essere potenziali possono essere espressi anche in relazione a delle proprietà spaziali mutualmente esclusive. Ma allora cosa significa essere in uno stato non spaziale? Cioè in uno stato di proprietà spaziali non attualizzate? Ecco, questa è la vera domanda. Che ne è invece della misura quantistica? Il suo mistero non è certo quello di descrivere una situazione in cui ciò che è attuale rompe la simmetria del potenziale, perché l'idea di rottura di simmetria è ben nota e sicuramente non è problematica. Si pensi alla teoria delle biforcazioni ad esempio. Prendete una matita appoggiata verticalmente sulla sua punta su un tavolo in equilibrio instabile. Quando la sua superficie di contatto diminuisce, le fluttuazioni ambientali romperanno la simmetria rotazionale e verrà così attualizzato un orientamento specifico, che era solo potenziale prima che la matita collassasse. E se ripetiamo l'esperimento, allora delle altre direzioni verranno attualizzate di volta in volta. Pertanto lo stato prima del collasso può essere descritto come vero e proprio stato di sovrapposizione. Ma allora perché una misura quantistica non viene vista semplicemente come un processo simile a una matita che cade sul tavolo? Ancora una volta, il problema è che la maggior parte dei fisici è ancora oggi molto legata all'idea della spazialità e pensa che non spazialità faccia rima con non realtà. In un certo senso, potremmo dire, pensano che solo le matite distese sul tavolo possano davvero esistere. Consideriamo ora l'entanglement quantistico. Dietrich Hartz è stato il primo a dimostrare con il suo famoso esempio dei contenitori d'acqua che i sistemi macroscopici possono facilmente violare le diseguaglianze di Bell, quando sono connessi tra loro e le correlazioni sono create a partire da queste connessioni. Perché allora l'entanglement non è visto semplicemente come un elemento connettivo della realtà, simile al tubo che collega i due contenitori d'acqua nel famoso esempio, nel famoso modello di Hartz. Ebbene penso che il nostro pregiudizio spaziale sia ancora una volta qui l'ostacolo principale. Quale sarebbe infatti la natura di un tale elemento connettivo della realtà che può rimanere perfettamente inosservabile nello spazio tra le due entità. E c'è poi l'ulteriore problema di capire perché le entità quantistiche tendono a intricarsi, a entrare in entanglement spontaneamente ogni volta che vengono lasciate interagire. Passando al principio di indeterminazione di Heisenberg, qual è il mistero? Non certo il fatto che non sia possibile effettuare determinate misurazioni congiuntamente. In effetti, nella sua tesi, Hartz ha presentato un famoso esempio di un'entità fisica, un semplice cubetto di legno che può sia galleggiare sull'acqua sia bruciare, che sono però due proprietà associate a dei test incompatibili. Come si fa allora a testarle queste due proprietà congiuntamente? Ebbene c'è un modo. Constantin Piro ha dimostrato che è sufficiente selezionare a caso uno dei due test e poi eseguirlo. Questo è ciò che ha denominato test prodotto. Quindi l'incompatibilità sperimentale non è un problema. L'indeterminazione quantistica è infatti qualcosa di molto più profondo. E ancora una volta, questo ci dice che un'entità quantistica è qualcosa di molto diverso da un corpo o un corpuscolo, che è qualcosa di non spaziale. E una buona interpretazione quantistica deve ovviamente anche spiegare perché un vettore di stato non può essere congiuntamente ben centrato, cioè poco disperso, nella posizione e nella quantità di moto. E deve anche spiegare l'esistenza delle relazioni di indeterminazione inverse che ci dicono che non possiamo avere stati, non possiamo anche avere degli stati che sono congiuntamente troppo dispersi, cioè troppo indeterminati, sia nella variabile posizione che nella variabile quantità di moto. Infine c'è il mistero dell'indistinguibilità o indiscernibilità quantistica, l'impossibilità di differenziare le entità quantistiche che sono tra loro identiche. Come possono delle entità quantistiche identiche essere veramente, autenticamente, genuinamente indistinguibili, indiscernibili e tuttavia rimanere degli individui, come accade ad esempio in un cosiddetto condensato di Bose-Einstein. Bene, dopo aver spiegato alcuni degli aspetti chiave dei principali misteri quantistici, parliamo ora della nuova ontologia e metafisica dell'interpretazione concettualistica, che riteniamo possa affrontare validamente questi misteri e trasformare la meccanica quantistica in una teoria realmente intelligibile. Non si tratta di un'interpretazione top-down, cioè dall'alto verso il basso, cioè derivata principalmente a partire da principi primi, ma piuttosto di un'interpretazione bottom-up, cioè dal basso verso l'alto, che deriva da un'attenta osservazione del comportamento delle diverse entità fisiche e dal cercare di rispondere alla seguente domanda. Quale natura sarebbe in grado di produrre un tale comportamento? E va detto che questa interpretazione, l'interpretazione concettualistica, è emersa unicamente dopo un lungo percorso di indagine, iniziato quasi mezzo secolo fa con l'assiomatica quantistica e, dopo molti passaggi, culminato più recentemente con quel campo di studio noto oggi con il nome di cognizione quantistica. La cognizione quantistica è un campo di ricerca in pieno sviluppo che fu avviato dai lavori pionieristici di Arz e da altri ricercatori come Krennikov e Atman Spacher e molti altri, che hanno ottenuto risultati davvero molto significativi nella modellizzazione di numerose situazioni cognitive umane utilizzando il formalismo matematico della teoria quantistica e trattando le entità concettuali e cognitive come se fossero delle vere e proprie entità quantistiche. Ora, questa scoperta inaspettata che la meccanica quantistica funziona estremamente bene per costruire una teoria dei concetti umani, delle loro combinazioni e delle loro interazioni con le menti umane, ebbene questo ha portato Arz a formulare anni fa, qualche anno fa, un'ipotesi che potremmo definire molto audace, inizialmente formulata nella forma della seguente domanda. Se la meccanica quantistica, come formalismo, modellizza così bene i concetti umani, questo starebbe forse a indicare che le entità quantistiche sono a loro volta delle entità concettuali? Da questa domanda è nata l'interpretazione concettualistica con la sua sorprendente ontologia e metafisica, che ovviamente non va confusa con la teoria filosofica del concettualismo, che è tutta un'altra cosa. L'interpretazione concettualistica postula che le entità della microfisica sono di natura concettuale e le entità fatte di materia ordinaria, i corpi macroscopici, sono di natura cognitiva. Postula inoltre che la dualità mente-linguaggio del regno culturale umano rispecchia la dualità fermioni-bosoni del dominio fisico, nel senso che bosoni e fermioni sarebbero delle entità appartenenti a un regno culturale molto più antico, con i bosoni che costituiscono i mattoni naturali costitutivi dei linguaggi e i fermioni i mattoni naturali costitutivi delle strutture cognitive. Quindi il nostro universo sarebbe fondamentalmente pancognitivista, nel senso che tutto in esso parteciperebbe alla cognizione, essendo poi la cognizione umana solo un episodio molto recente, espresso a un livello organizzativo molto specifico. Bene, ma torniamo ai misteri di cui abbiamo accennato, questa volta adottando l'interpretazione concettualistica e la sua metafisica. Che ne è della sovrapposizione quantistica? Abbiamo detto che il suo mistero principale è la non-spazialità. Ebbene, il mistero scompare immediatamente perché un'entità concettuale non è di certo un'entità spaziale. Pensate all'esempio della lingua italiana. Non c'è alcun mistero nell'osservare che si tratta di un'entità non-spaziale. Il significato che essa trasmette può, tuttavia, lasciare tracce su diverse tipologie di supporti spazio-temporali come documenti stampati o elettronici, eccetera, eccetera. Ora, quando pensiamo alla sovrapposizione quantistica, pensiamo anche ai famosi fenomeni o effetti di interferenza. Quindi, se l'interpretazione concettualistica e corretta, ci si aspetterebbe di osservare degli effetti di interferenza anche nel dominio culturale umano. Prendiamo allora, ad esempio, lo studio di Hampton del 1988 in cui i partecipanti a questo studio sono stati esposti a 24 diversi esempi di cibi, tipicamente cibi tipo frutta, verdura e cose simili. Più esattamente, sono stati inizialmente invitati a scegliere quell'esemplare, appartenente all'insieme di esemplari proposti, che ritenevano essere un buon esempio di frutta. Allo stesso modo, ai partecipanti veniva poi chiesto di scegliere un esemplare che consideravano essere un buon esempio di verdura. Infine, veniva loro chiesto di scegliere un esemplare, sempre appartenente all'insieme di esemplari proposti, che ritenevano essere un buon esempio di frutta o verdura, cioè della disgiunzione logica dei due concetti di frutta e verdura, quindi frutta o verdura. In queste tre diverse situazioni, che possiamo considerare come tre diversi contesti sperimentali, è possibile ovviamente calcolare le frequenze relative con cui vengono selezionati diversi esemplari e queste frequenze relative corrispondono alle cosiddette probabilità sperimentali di scegliere i diversi esemplari nelle tre diverse situazioni. Senza qui entrare nei dettagli si può allora osservare che queste probabilità sono impossibili da comprendere, cioè da modellizzare, usando un ragionamento puramente classico, ad esempio in relazione al significato di una disgiunzione logica. D'altra parte, possono essere modellizzate utilizzando la regola probabilistica di Born della meccanica quantistica e il principio di sovrapposizione. Più precisamente, è possibile considerare frutta, verdura e frutta o verdura come tre differenti stati di una medesima entità concettuale, ad esempio l'entità concettuale cibo. E la combinazione frutta o verdura può allora essere descritta come una sovrapposizione dello stato frutta e dello stato verdura, cioè dello stato dove il cibo è della frutta e dello stato dove il cibo è una verdura. Se procediamo in questo modo, ci troviamo allora in una situazione equivalente a quella del famoso esperimento della doppia fenditura. E se si considerano solo gli esemplari selezionati in relazione al concetto di frutta, ciò corrisponde al caso in cui solo la prima fenditura concettuale, quella del concetto frutta, è aperta. E come ho detto, le probabilità di diversi risultati possibili possono essere descritte tramite la regola di Borne e rappresentate ad esempio su uno schermo degli esemplari bidimensionale. È possibile allora osservare che la distribuzione degli impatti sullo schermo quando solo la fessura, la fenditura frutta è aperta è di tipo corpuscolare. Naturalmente possiamo fare la stessa cosa considerando solo gli esemplari selezionati in relazione al concetto di verdura, il che corrisponde al caso in cui solo la seconda fenditura concettuale, quella del concetto verdura, è aperta. Ed anche in questo caso otteniamo una distribuzione di probabilità sullo schermo degli esemplari di tipo corpuscolare. Infine abbiamo la terza situazione, quella più interessante, dove entrambe le fenditure, sia della frutta che della verdura, sono congiuntamente aperte, cioè la situazione dove si considerano le scelte dei partecipanti in relazione alla combinazione concettuale frutta o verdura. Questa è una situazione che, come ho detto, si lascia modellizzare da un'appropriata sovrapposizione normalizzata delle due funzioni d'onda precedenti. Ecco allora che sorprendentemente appare sullo schermo degli esemplari un complesso schema di interferenza che ricorda molto quello ottenuto nei fenomeni di birifrangenza. Bene, il prossimo mistero sulla nostra lista è quello della misura quantistica. Ho già osservato che si tratta di un processo di rottura di simmetria, di rottura di simmetria ponderata. Questo è perfettamente compatibile con l'idea che debba essere interpretato come un processo interrogativo e che quindi possa essere spiegato facendo riferimento a ciò che tipicamente accade durante un processo cognitivo di questo tipo. Qui naturalmente dobbiamo distinguere il processo interrogativo umano dello sperimentatore dal processo interrogativo non umano dello strumento di misura in quanto tale. Infatti le domande poste allo strumento e le risposte che quest'ultimo dà, ad esempio lasciando delle tracce su uno schermo, non possono essere formulate nel nostro linguaggio umano. Non possiamo comprendere, ad esempio, una comunicazione tra un fotone e uno schermo rilevatore, ma possiamo capire che è in corso una comunicazione. Perché possiamo farlo? Ebbene, questo è l'assunto centrale che sta alla base dell'interpretazione concettualistica. Il formalismo quantistico è un formalismo che noi esseri umani abbiamo sviluppato proprio per modellizzare, sebbene senza saperlo, delle entità portatrici di significato. Ed è per questo che tale formalismo si è dimostrato poi così efficace nel modellizzare i processi cognitivi umani. In altre parole, quantistico e concettuale o concettualistico sarebbero due termini che designano una realtà della stessa natura, della stessa natura cognitiva o similcognitiva. Bene, lo strumento di misura viene quindi visto come un'entità di tipo cognitivo, mentale, che viene obbligata in qualche modo a rispondere a una domanda. E nella sua risposta si possono certamente distinguere due passaggi logici. Nel primo passaggio, il significato della situazione, espresso dallo stato iniziale del sistema, interpretato come un'entità concettuale, ebbene, questo significato viene avvicinato il più possibile al significato delle diverse risposte disponibili. E si viene così a creare uno stato di equilibrio mentale di massima instabilità, uno stato tensionale, formato dalle diverse connessioni di significato con le diverse risposte in competizione tra loro. E nel secondo passaggio, la più piccola fluttuazione nel processo di valutazione romperà l'equilibrio in questione a favore di una delle connessioni in competizione, producendo un risultato del tutto impredeterminabile. Perché tutto questo sarebbe rilevante per spiegare cosa succede dietro le quinte di una misura quantistica? Ebbene, è rilevante perché le probabilità quantistiche possono essere spiegate proprio in termini di fluttuazioni tra l'apparato di misura e le entità misurate, chiamate interazioni di misura nascoste, hidden measurement interactions in inglese. Ed è rilevante perché nella cosiddetta rappresentazione estesa di Bloch della meccanica quantistica compaiono delle strutture geometriche specifiche che descrivono in modo naturale queste regioni di potenzialità all'origine delle fluttuazioni e responsabili delle riduzioni dei vettori di stato, cioè del collasso delle funzioni d'onda. Si può quindi spiegare una misura quantistica come un processo in due fasi, in due passaggi, come quello che ho appena descritto e persino dedurre la regola probabilistica di Born, cioè derivarla, in modo non circolare. Che dire dell'entanglement? Ebbene, anche in questo caso l'interpretazione concettualistica ci offre una risposta estremamente semplice per risolvere il suo mistero. L'elemento connettivo all'origine delle correlazioni sarebbe la sostanza stessa del significato. Infatti, se è vero che le entità quantistiche sono delle entità concettuali, allora è lecito aspettarsi che possano condividere del significato, cioè che possano connettersi tramite significato e che un'entità cognitiva che interagisce con esse sia poi sensibile alla presenza di queste connessioni di significato quando si trova di fronte, ad esempio, a un contesto interrogativo. E questo spiegherebbe anche perché l'entanglement quantistico e poi lo stato di default, perché quando due entità concettuali sono riunite, interagiscono nella stessa situazione cognitiva, se condividono un significato allora sarà automaticamente presente una connessione di significato. Per fare un esempio, consideriamo un recente esperimento di psicologia cognitiva che è stato condotto e analizzato nel nostro gruppo di ricerca. Ai partecipanti all'esperimento è stato chiesto di selezionare delle coppie di direzioni spaziali che consideravano essere i migliori esempi di due diverse direzioni del vento. A tal fine sono stati loro forniti degli esempi specifici di coppie di direzioni del vento, tra le quali dovevano scegliere per l'appunto quella che ritenevano meglio rappresentativa dello stato corrispondente a due diverse direzioni del vento. E per analizzare i risultati, come si fa nei tipici esperimenti dove viene testata la diseguaglianza di Bell, nella fatta specie più esattamente la versione detta CHSH, Clauser-Horn-Simonie-Holt, della diseguaglianza, sono state effettuate, per poter avere questo strumento di analisi, sono state effettuate quattro diverse misure cognitive, utilizzando diverse combinazioni delle otto direzioni cardinali e ordinali di una rosa dei venti. È stato allora possibile mostrare che le probabilità ottenute relative ai diversi esiti, nei diversi contesti di misura, violavano la diseguaglianza di Bell, o diseguaglianza CHSH in questo caso, con lo stesso ordine di grandezza dei tipici esperimenti condotti sulle microentità. In altre parole, le due direzioni del vento, quando si trovano nello stato concettuale di essere diverse, vanno considerate come due entità entangled, cioè intricate. Ma c'è di più. Non è molto noto, ma nei test di Bell condotti in laboratorio, anche le cosiddette leggi marginali, chiamate anche condizioni di non segnalazione, no signaling in inglese, sono spesso violate. Ora, il formalismo quantistico standard, con la sua particolare prescrizione, che è quella di descrivere le misure congiunte per mezzo di un'unica decomposizione tensoriale dello spazio degli stati, ebbene questa prescrizione implica che automaticamente le leggi marginali devono essere sempre rispettate. Si tende quindi a credere che queste violazioni osservate sperimentalmente siano dovute unicamente a degli errori sperimentali. D'altra parte, l'interpretazione concettualistica prevede la possibilità di queste violazioni, che quindi potrebbero non essere unicamente degli errori sperimentali, ma il risultato di meccanismi di tipo cognitivo coinvolti nella creazione delle correlazioni. In altre parole, potrebbero rivelarsi una sorprendente conferma della validità dell'interpretazione concettualistica. E permettetemi qui di sottolineare, perché è importante, che la violazione delle leggi marginali non implica che una comunicazione superluminale possa automaticamente avere luogo. È una condizione necessaria, ma certo non sufficiente affinché ciò si verifichi. Passiamo al mistero dell'indeterminazione quantistica, o se preferite della complementarità quantistica. Perché le microentità non possono trovarsi in stati in cui posizione e quantità di moto, ad esempio, e per prendere queste due osservabili, sono congiuntamente determinate in modo preciso? O, in alternativa, non possono trovarsi in stati in cui sono congiuntamente massimamente indeterminate? Perché, come ho ricordato prima, esistono anche delle relazioni di indeterminazione inverse. La risposta, nell'ambito dell'interpretazione concettualistica, è di fatto estremamente semplice. Se è vero che le microentità sono di natura concettuale, allora non possono trovarsi in stati che siano congiuntamente massimamente astratti e massimamente concreti. Esiste cioè un compromesso, un trade-off, come dicono gli inglesi, tra il concreto e l'astratto. E gli stati massimamente concreti descrivono situazioni di massima localizzazione nello spazio, mentre gli stati massimamente astratti descrivono situazioni di massima despazializzazione. Quindi il principio di Heisman è davvero parte integrante dell'interpretazione concettualistica ed è una conseguenza della natura concettuale delle entità quantistiche. Ora, parlando di astratto rispetto al concreto, nell'interpretazione concettualistica i concetti più astratti sono quelli esprimibili con una sola parola e il loro grado di concretezza aumenta con l'aumentare del numero di combinazioni concettuali. Ciò significa che i concetti più concreti sarebbero quelli descritti da aggregazioni molto ampie di concetti formati da una sola parola, tutti collegati tra loro tramite significato, che è quello che nel nostro dominio concettuale umano indicheremo usando il termine di storie. Bene, a questo punto è necessario un piccolo avvertimento. Quando ci si avvicina all'interpretazione concettualistica è facile promuovere un'indebita confusione. Tra cosa? Tra il dominio cognitivo umano e il mondo fisico in quanto tale anch'esso partecipe della cognizione, ma in un dominio diverso della nostra realtà. Guardate ad esempio questa immagine. Ci sono due storie che entrano qui in contatto e che non vanno assolutamente confuse. C'è la storia che l'uomo racconta, quella del cane Alfie. E poi c'è il corpo di Alfie, che è anch'esso una storia. Ma non la storia che l'uomo racconta. Il corpo di Alfie è la storia formata da tutte quelle entità concettuali, atomiche e molecolari che ne costituiscono la struttura. Ed è una storia che una mente umana è certamente incapace di comprendere, essendo troppo lontana in termini di significato, dalla nostra cultura umana. Molto bene. Ultima, ma non meno importante, l'indistinguibilità quantistica. Come possono le entità quantistiche essere veramente indistinguibili, pur rimanendo degli individui? Ora, se questo sembra essere del tutto impossibile per degli oggetti, ci si aspetta invece che sia il caso per dei concetti. Infatti, quando un messaggio non trasmette alcun elemento di distinzione tra due entità concettuali, allora per i destinatari del messaggio esse sono veramente, autenticamente indistinguibili. Per fare un esempio, considerate il concetto animale. Quindi prendete 11 di questi concetti di animale. Metteteli nello stato descritto dalla combinazione concettuale 11 animali. Ovviamente tutti i concetti animale nello stato di 11 animali sono tutti autenticamente indistinguibili. E il fatto che 11 animali sia un concetto e non un'entità spazio-temporale è ovviamente del tutto cruciale per la sua capacità di possedere la caratteristica quantistica di essere molti e allo stesso tempo essere autenticamente indistinguibili. Pertanto, l'indistinguibilità quantistica diventa perfettamente ovvia nell'interpretazione concettualistica. Detto questo, è ben noto che in ambito dei sistemi fisici l'indistinguibilità ha profonde conseguenze sul comportamento statistico di insiemi di entità identiche, in quanto dà origine a delle statistiche non classiche, come quella di Bose-Einstein e di Fermi Dirac, anziché la statistica classica di Maxwell Boltzmann. Pertanto una previsione dell'interpretazione concettualistica è che ci si aspetta di trovare un comportamento statistico non classico anche nel dominio concettuale umano. E in effetti, dopo alcuni risultati preliminari, questa previsione è stata di recente pienamente confermata in un'analisi della struttura del linguaggio umano condotta da Dieterich Hartz e Lester Beltran. Prendiamo l'esempio della storia di Winnie the Pooh dal titolo In which Piglet meets the Heffalump. La storia può essere analizzata come se fosse un gas confinato di cognitoni, per analogia con un gas di bosoni, dove per cognitoni intendiamo qui dei concetti formati da una singola parola. Ciò significa che le parole che vengono ripetute nella storia corrispondono a dei cognitoni che si trovano nello stesso stato, quindi appartenenti allo stesso livello energetico. Le parole più ripetute popoleranno allora lo stato fondamentale del gas, mentre quelle meno ripetute saranno associate agli stati eccitati più energetici. Una volta fatta questa analisi diventa possibile testare le distribuzioni ad esempio di Maxwell Boltzmann e di Bose-Einstein per vedere quale di queste due si adatta meglio ai dati. Il risultato è che la distribuzione di Maxwell Boltzmann permette di modellizzare in modo molto molto scarso i dati, anzi non riesce a modellizzarli del tutto si potrebbe dire, mentre la distribuzione di Bose-Einstein offre una modellizzazione decisamente notevole dei dati. E questo è stato ora verificato su una serie di testi di diversa lunghezza e queste conferme sono ancora più significative se si considera che offrono quella che probabilmente è la prima spiegazione fondamentale dell'origine della cosiddetta legge di Zipf, il fatto che in un corpus di linguaggio naturale la parola più frequente appare circa due volte più spesso della seconda parola più frequente, tre volte più spesso della terza parola più frequente e così via. In definitiva questo comportamento sarebbe il risultato del fatto che i concetti umani, come le entità fisiche bosoniche, si comportano come delle entità indistinguibili che possono trovarsi nello stesso stato, come dimostra il fatto che delle parole identiche in una storia possono essere scambiate senza alterarne in alcun modo il significato. E se questo comportamento lo ritroviamo anche nel mondo fisico, ciò sarebbe dovuto al fatto che le entità quantistiche sono essenzialmente di natura concettuale. Molto bene, sono arrivato alla fine di quello che volevo presentare. Concludo con un ultimo avvertimento. Non è certo possibile spiegare la ricchezza e la portata dell'interpretazione concettualistica in così poco tempo. Lo scopo di questa presentazione è solo quello di incuriosirvi e stimolarvi ad approfondire questa affascinante prospettiva. Ci sono molti altri misteri quantistici che devono e possono essere affrontati e spiegati attraverso questa interpretazione, oltre a quelli che ho qui brevemente accennato e vi rimando agli articoli citati nella descrizione del video. Ad esempio per una discussione di altre situazioni sperimentali, come gli esperimenti della doppia fenditura di Jung o di cancellazione quantistica scelta ritardata, o per apprezzare la fecondità dell'interpretazione concettualistica per avvicinarsi anche ai misteri della relatività. L'interpretazione concettualistica ha tra l'altro anche forti implicazioni per la nostra visione dell'evoluzione, in quanto offre un quadro pancognitivista che può essere molto utile per cercare di svelare il mistero di come forme di vita complesse siano apparse sulla superficie del nostro pianeta. Ma ancora una volta, e su questo concludo, è essenziale evitare antropomorfizzazioni troppo facili e anche coltivare visioni soggettiviste che probabilmente sono sbagliate. L'interpretazione concettualistica è un'interpretazione realista e il fatto che le entità fisiche siano di natura concettuale, questo è il suo presupposto, non significa affatto che siano assimilabili ai concetti umani. Non lo sono, assolutamente. Si pensi a un'onda elettromagnetica e un'onda acustica, sono entrambe entità della stessa natura ondulatoria, ma sono ovviamente entità molto, ma molto diverse tra loro. Lo stesso vale per i concetti umani e le entità concettuali del mondo fisico. Si tratta di entità che partecipano a una medesima natura concettuale, ma che sono ovviamente molto diverse tra loro, quindi assolutamente da non confondere. Grazie per l'ascolto.